Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, oggi voglio dire come sono la sera acciaio come sono la mattina sono la sera ecco come sono la sera il mio orologio diesel il il mio zippo allie devinson la mia catena non è quella luca barra ma è quella l'aragonese i miei tre anelli quello al leone quello sector e quello bloswey il bracciale zippo profumo alfa romeo black addiction e infine il coltellaccio di rambo 2 per essere acciaio anche la sera va bene ragazzi questo è tutto per questo video iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video io parlo di tantissime altre cose come motori, soft air armi di tutto ragazzi parlo di tutto profumi di tante cose voi andate a vedere gli altri video e ci vediamo alla prossima ciao ciao iscrivetevi al canale mi raccomando